Un UFO avvistato sopra la residenza del presidente italiano. La notizia sconvolge il paese. Roma, l'Italia è in fermento per una notizia che ha fatto storia. Un UFO sarebbe stato avvistato sopra la residenza ufficiale del presidente Giovanni Leone a Roma. Questo avvistamento insolito, verificatosi durante la notte, ha scatenato grande interesse tra i cittadini romani e ha subito catturato l'attenzione dei media. Secondo i testimoni oculari, l'oggetto appariva come una sfera luminosa in rapido movimento che per alcuni istanti sembrava sospesa sopra la residenza presidenziale. La notizia si è diffusa rapidamente, trasformandosi in uno degli avvistamenti UFO più discussi nel paese. Questo evento si inserisce nella cosiddetta Ondata di UFO in Italia del 1978, un anno segnato da numerosi rapporti di avvistamenti di oggetti misteriosi, in particolare lungo le coste del Mar Tirreno. Molti abitanti delle regioni costiere riferirono di avvistamenti simili, contribuendo ad alimentare il mistero. Le autorità italiane non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, ma alcuni esperti hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un fenomeno atmosferico o astronomico. Tuttavia, gli appassionati di UFO rimangono convinti che si tratti di un evento inspiegabile, destinato a rimanere un enigma nella storia del paese. Questo avvistamento ha lasciato un segno duraturo nella cultura popolare italiana, alimentando l'interesse per il fenomeno UFO e dando impulso a studi e ricerche sull'argomento.